Sono allerta! Sono allerta! Oh 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 È bello rivederti Continuiamo? Oh 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 E' abbastanza vicino. Che diavolo ci fai qui? La curiosità può far uccidere un abitante della zona contaminata. Ti faccio entrare, ma prima devi parlare con il signor Walker. Seguimi. Oh, e stai alla larga dai gradini del monumento. Hanno l'ordine di sparare a chiunque si avvicini troppo. Il sentiero è sicuro. E' abbastanza vicino. Il monumento è off limits. Muoviti. Il signor Walker aspetta. Beh, io sono l'eroe Walker e tu probabilmente ti chiederai cosa ci facciamo noi qui. Sei intelligente. Veniamo da Paradise Falls. Stiamo dando la caccia agli schiavi fuggiti. Ne hai visto qualcuno? È un vero peccato. Sai, sembri il tipo di abitante della zona contaminata che si vende facilmente. Ho bisogno che qualcuno mi trovi del bottino rovistando tra delle rovine qua vicino. Ti interessa la cosa? Mi piacerebbe, ma non posso mandarci nessuno dei miei uomini. Tu invece potresti. Soprattutto col carattere che ti ritrovi. Facciamo così. L'offerta rimane aperta. Se non ti rivedo più, non avrò perso niente. Non vogliamo che gli schiavi usino queste cose come pretesto per iniziare una rivolta. Così le bruciamo. Buona fortuna per il museo. Riportami qualcosa e ti farò dare un'occhiata da vicino al monumento. Piantala! Vai indietro! Vai indietro! Vai indietro! No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. Non avrò problemi a ricostruire il monumento con questa. Grazie. No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Hai mantenuto la parola Ti daremo sempre il benvenuto al Tempio dell'Unione Prendi questi schemi come pegno della nostra gratitudine È una cosa da poco, ma ti darò dieci tappi in cambio Se andassero perduti sarebbe una terribile tragedia Ti prego di averne molta cura Le parole del grande Lincoln che incita il suo popolo alla guerra Posso offrirti settantacinque tappi in cambio Le parole dell'illustre personaggio in persona Scritte di suo pugno Ti pagherò cento tappi per Suppongo che abbiano poco valore per i fedeli Ti darò quindici tappi La sua vera voce Com'è possibile? Devo averla Ti darò cinquanta tappi in cambio Se andassero perduti E pensare che perfino il grande Lincoln è stato ucciso da un assassino È un monito per tutti a rimanere sempre vigili Vorrei comprartelo per cinquanta tappi A dopo Ehi! Dove? Mi piace questo? Continua a sparare E che sia finita Ciao! Ehi! Grazie.